martedì 3 settembre 2024 ritorno dove domenica ho fatto un giro di ispezione è piovuto ieri siamo a piemonte nord occidentale più o meno la quota è di 1.400 metri e stanno cominciando a nascere perché questo le lumache con le piogge hanno avuto la meglio qui sono tre questo il quarto e poi qui c'è il quinto piccolino sei e ce ne sono degli altri ma sono tutti piccoli sono troppo piccoli e noi li raccogliamo perché non vale la pena sono sotto misura e cerchiamo quelli un pochino più più grossi allora si continua la nostra ricerca oggi funghi non facili io sono salita a 1.695 metri e per la sera i funghi non facili però però direi che il premio mi sembra che sia un buon premio allora eccole uno e poi qua c'è il suo fratello direi che forse questi sono i primi funghi di un certo peso che riusciamo che riesco a trovare dai che lo togliamo togliamo che bel fungo questo è un bel fungo chiudiamo il buco ed ora togliamo anche l'altro lo facciamo insieme e anche questo e anche questo direi un po più maturo ma è sempre un signor fuoco e ora guardiamoci intorno e speriamo di trovarne qualcuno e oggi è tutto un saliscendi sali 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 di quota poi scendi 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 e poi nei posti più banali in un pianoro ecco cosa abbiamo scoperto qua c'è uno qua c'è un altro e poi chissà se è ancora buono suona eh proviamo a vedere cosa dice è un po' maturo ma direi che è ancora un bel fungo poi c'è questo allora mettiamo a posto la lettiera dove ho tolto il fungo e ora lo sentite suona suona e via raccolto ecco ora mi guardo intorno e con calma me li pulisco grazie a tutti